Ma non tutto quello che succede è completamente pianificato. Per esempio, oggi a pranzo stavo parlando con una ragazza di quanto mi piace ballare, della Handler, e poi ho scoperto che lei è la coreografa dello show! Cosa? La coreografa? Ma questa è davvero una coincidenza incredibile! Ah, che bello che l'hai conosciuta! Stava cercando un po' di ispirazione per le prossime scene, e indovina chi è la persona che la ispirerà? Io! Dici sul serio? Ah, sono un po' nervosa però, è successo tutto così in fretta. Ti va di dirmi cosa ne pensi? Certo! Fammi vedere, forza! Brooklyn! Brooklyn, c'è un... c'è un... c'è un cane... un cagnolino! Quello è... quel cane! Dice Sinta! È mozzarella! No! No! Oh! Barbie! Brooklyn! Stai bene! Richiamami! Un... c'è 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 un